Domenica si terrà in tutta Italia la 45esima giornata per la vita, qual è il significato? È una giornata che viene indetta dai Vescovi, i quali vogliono invitarci a rinnovare il nostro impegno per la promozione e il sostegno a difesa della vita nascente e della vita in generale. È una giornata che impegna tutti quanti i centri di utile della vita presenti sul territorio nazionale e sono più di 400. Che cosa fanno questi centri? Si occupano di accompagnare quelle mamme che si trovano di fronte a una gravidanza inattesa e che quindi si sentono insicure e preoccupate per il loro futuro, ma soprattutto per il futuro del bimbo o della bimba che portano in grembo. Il centro di aiuto alla vita di Savidiano, che fa parte proprio di questa rete a livello nazionale, già da 40 anni porta avanti questo impegno e accompagna le mamme che sono in difficoltà nel momento della gravidanza, ma anche dopo. Quindi io ritengo che l'offerta di una primula, che è il simbolo della vita nascente, è un gesto molto potente e molto forte di condivisione e di soccorso per chi si trova in difficoltà e che cerca di superare la propria angoscia per poter accogliere serenamente il bambino che nascerà. Ecco perché, spieghiamolo, i volontari distribuiranno a Savidiano, così come in tutta la provincia, delle primule il cui ricavato servirà a sostenere le mamme che hanno bisogno di aiuto. Sicuramente, i volontari saranno presenti a Savidiano, ma anche nei comuni limitrofi, in tutta la provincia di Cuneo, ma a Torino, nella regione, eccetera, eccetera, proprio davanti alle chiese, ma anche in piazza, davanti a tutti quei luoghi dove è possibile incontrare le persone e offrire loro una primula. Primula che, come ho detto già prima, è proprio simbolo della vita nascente. Il nostro CAV ha la presenza di volontari, direi fissi, quelli cioè che si occupano delle varie attività e sono all'incirca 25 volontari. Alcuni sono adibiti alla distribuzione di viveri, altri alla distribuzione dei vestiti, altri ancora all'accoglienza, chi alla promozione di eventi e di attività e chi naturalmente al reperimento delle risorse che possono servirci per andare avanti. Questo invito è soprattutto rivolto alle mamme che si trovano in difficoltà e naturalmente anche alle persone che vogliono dare un aiuto a queste mamme, che possono portare attrezzi per i bambini, quindi carrozzine, passeggini, giochi, quant'altro possa loro servire.